E' proprio l'anno dell'Eramo, a tutti i livelli. La Berretti Biancorossa bis 2 a 0 conseguito contro la Roma, sette giorni orsono, schiacciando anche la blasonata San Benedettese, senza patire alcunché i marchigiani. Due parole vanno sicuramente rivolte alla società di Via Delfica, capace di ricreare un grosso settore giovanile dopo tanti anni di duro lavoro. Il sacrificio, non solo economico, viene comunque ben ripagato. I già consacrati bucciarelli, colle vecchio, i annetti e cappellacci, hanno già pronti i degni successori, tanti e bravi, guidati da già invidiati tecnici del settore. Al trainer della Berretti, Antonio Cipro, associamo il bravo Diego di Felice Antonio, senza comunque voler trascurare quanti orbitano intorno alla scuola calcio Biancorossa, il vero punto di partenza. Il Teramo, continuando nella scalata al vertice, riesce soprattutto a vincere con Vincento. Il verdetto contro i Rosso Blu è maturato nel primo tempo, grazie alle reti di consorti ancora e Torretta, praticamente il duo d'attacco e poi semplice e ordinaria amministrazione. Nella ripresa debita al contenimento non passivo, il Teramo si è confermato decisamente in crescendo e non solo di risultati, il tutto naturalmente lascia ben sperare nel proseguimento di un torneo ad alto livello. Forza Babies Biancorossi, che al termine si possa brindare unitamente a coloro che, per oggi, ma solo per oggi, fanno più cronaca.